Nel 1996 un agricoltore italiano che coltivava mais o soia, comperava le sementi da una multinazionale, almeno questo avveniva per il 95% degli agricoltori italiani. Attualmente fa lo stesso, quando va a rifornirsi delle nuove sementi si rivolge a una multinazionale, tuttora coltiva diversamente dall'agricoltore americano, cinese o indiano, coltiva piante convenzionali, non trasgeniche. Con questo voglio dire che in realtà le grandi culture come il mais e la soia sono da molti anni in mano a società multinazionali e questo nasce dal fatto che dietro queste grandi culture ci sia anche un grande business e che per essere, per avere successo in questo terreno, in questo settore economico è necessario essere organizzati molto bene, ad esempio avere delle proprie centri di ricerca collocati nell'emisfero nord ma anche nell'emisfero sud perché occorre preparare le sementi sempre in controstagione, cioè voglio dire le semente che noi di mais che seminiamo quest'anno, semineremo l'anno prossimo, in marzo-aprile, bene queste sono state prodotte nel periodo invernale nell'altra parte del mondo. L'avvento delle multinazionali ha cresciuto questo fenomeno, nel senso che poiché avere in mano un gene da inserire in una pianta non significa assolutamente avere in mano il breeding, cioè il miglioramento genetico di quella specie. Un miglioratore genetico, uno che fa sementi, che fa nuove varietà e così via, deve riuscire a manipolare con dei metodi assolutamente tradizionali e decine di migliaia di geni, trovarne la combinazione giusta perché solo così riesce a aumentare la produttività. Quindi attraverso incroci, attraverso poi selezione e così via, cerca la combinazione giusta di questi geni, anche se ovviamente non li conosce, non sa nemmeno forse quanti sono e quali sono, però in realtà opera sui gli effetti di questi geni e seleziona in base a queste cose. Alla fine aumenta dunque la resa e su queste nuove varietà arriva il biotecnologo e innesta il nuovo gene. Ad esempio il mais PT non è altro che un mais tradizionale a cui hanno messo un antifurto, cioè un gene che impedisce alla pirale di portarsi via quel 10% di produzione di cui parlavamo precedentemente. Ma nessuno comprerebbe un'automobile soltanto perché c'è un buon antifurto. L'importante è che sia buona l'automobile, su quella buona automobile ha senso montare un antifurto. Alla stessa cosa vale per le varietà. Per essere, avere un successo in campo sementiero occorre prima mettere a punto una buona varietà e poi su questa si può innestare un gene BT. Questo ha fatto sì che coloro che avevano in mano le tecnologie per manipolare i geni, i trasgeni, hanno acquistato le società di breeding. Attualmente dunque abbiamo ristretto ulteriormente l'offerta di prodotti sia tradizionali che trasgenici, nel senso che esistono ormai società sementieri che vendono, in funzione anche del territorio in cui operano, la versione normale e la versione trasgenica della stessa varietà. Questo sostanzialmente è il sistema. Ora, uno studio che è comparso l'8 di ottobre su Science quest'anno, ci dice che è uno studio fatto da cinque università nord americane, il Nebraska, l'Illinois, il Wisconsin, l'Iowa e il Minnesota. Questi ricercatori pubblici hanno dimostrato come le nuove mice BT sostanzialmente in quegli stati, ha fatto crescere la produttività di circa un 1% all'anno e ha dato un maggior reddito di circa 14 miliardi di dollari, cioè sostanzialmente un miliardo di dollari all'anno agli agricoltori. Ma la cosa interessantissima di questo studio è che il guadagno è stato maggiore per chi non ha coltivato BT di chi ha coltivato mais BT. Com'è possibile spiegare questo? Semplice, perché l'impatto che hanno questi mais BT non riguarda soltanto la cultura BT stessa, il mais BT stessa, ma riguarda anche le culture che stiano a fianco. Perché? Perché abbassano la presenza dell'insetto aggressivo, ok? E quindi i riflessi positivi sono sia nel campo del trasgenico sia nel campo che non è trasgenico. Questo per dire che cosa? Per dire che effettivamente l'impatto che hanno queste biotecnologie sulle produttività si allarga e questo fa crescere sostanzialmente il ruolo, il dominio che hanno queste multinazionali sull'intero sistema sementiero. Quindi noi possiamo aspettarci che il fenomeno che abbiamo osservato di concentrazione venga ulteriormente a intensificarsi. A questo quadro, abbastanza preoccupante per le culture mondiali, si aggiunge un altro fatto che la normativa europea che gestiscono queste culture è talmente costosa e richiede tanto di quel tempo. Per cui se c'è qualcuno che ha intenzione di proporre culture trasgeniche in Europa, beh, questo non può essere che una multinazionale, perché solo un ricercatore pubblico o una piccola società non avrà mai nei mezzi, nei tempi per poter arrivare alle autorizzazioni che sono necessarie in Europa per fare queste coltivazioni. Quindi ci stiamo mettendo anche del nostro in questo meccanismo di concentrazione. Il quadro è abbastanza diverso invece di quando andiamo a parlare di altre culture che spesso sono orfane dal a questo punto di vista, nel senso che alle multinazionali non interesserà o interesserà pochissimo ad esempio fare un trasgenico, che so, di prezzemolo, di cipolle o altre culture, ce ne sono centinaia e centinaia. Addirittura anche per la papaya non c'è stato bisogno dell'intervento di nessuna multinazionale. Noi sappiamo che ormai la papaya come cultura è stata salvata da una cultura trasgenica messa a punto da una università americana, la Cornell University, che poi ha lasciato in uso questo. Per quanto ci riguarda strettamente noi abbiamo una serie di culture non così importanti come il mais e la soglia, le quali sono in mani di multinazionali e lo sono da tanto tempo e lo saranno ancora di più, ma ce ne sono molte altre di nostro interesse che potrebbero essere invece sviluppate a livello intervento non necessariamente di multinazionale e così via. Però occorre, perché si arrivi a questo, due condizioni. La prima è che la normativa europea su questo settore si snellisca sia in termini di tempo che in investimento economico e la seconda è che ci sia un atteggiamento verso questi prodotti un po' meno, come dire, negativo o addirittura aggressivo. In queste condizioni io mi aspetto che ci sia spazio anche per gli enti pubblici, che ci sia spazio anche per i costitutori più piccoli, perché tutto sommato questi lavorano da tanto tempo nel settore locale e così via e sono sopravvissuti proprio per questa ragione. Quelli che lavoravano sulle grandi culture sono già scomparsi. Un'ultima cosa vorrei dire su questo argomento, che un ruolo straordinario in questo settore avrà la Cina, perché la Cina si sta avviando al trasgenico, anzi è il paese in cui le culture trasgeniche sono estremamente diffuse. Ora mi aspetto che a breve tempo, anche nel campo sementiero, anche in questo settore, la Cina popolare possa avere un ruolo importante. E non so in che modo tutto questo possa cambiare i termini del quadro di questa situazione.